Raniero Lavalle, in questi giorni non si fa che parlare di un tema profondamente importante come quello dell'aborto, della legge 194 del 1978. Lei è stato tra i primi firmatari della legge, in particolare ha scritto i primi due articoli della legge sull'aborto. Come si spiega tutto questo clamore dato dalla volontà da parte della destra al governo di voler in parte rivoluzionare la legge? Dunque io penso che è un tentativo di revancismo, di restaurazione, ma è molto grave però, è proprio quasi delittuoso, perché vuol dire tornare a una situazione che era veramente drammatica, tragica. Noi avevamo in vigore il codice rocco, il codice penale, per il quale l'aborto era considerato non solo un reato, un delitto, ma addirittura un assassino. Le madri erano considerate colpevoli e i medici erano considerati sicari, quelli che facevano l'aborto. E le povere donne che dovevano abortire erano costrette a fare l'aborto clandestino, con grandissimo pericolo per loro, e quando non era clandestino e venivano scoperte rischiavano la prigione. E allora noi nel 1976, quando siamo arrivati in Parlamento, abbiamo pensato che si dovesse fare una legge che risolvesse questo drammatico problema. Però avevamo una grande difficoltà, perché da un lato c'era la proposta individualista, personalistica, soggettivistica, dei radicali, i quali dicevano il solito discorso del diritto della persona inviolabile, la donna avrebbe detto il corpo è mio e faccio quello che voglio io. E questo era però un modo di ignorare che in una gravidanza, in una gestazione, il destino che è in gioco non è solamente quello della madre, ma è anche quello del figlio che porta nel seno, salvo a decidere quando è che comincia questa famosa vita come persona. E allora lì si apriva un dibattito ideologico, ma quando comincia la vita, cioè quando è che la soppressione di un feto vuol dire anche la soppressione di una persona umana. E dall'altra parte c'era appunto tutto lo schieramento della Chiesa, dei cattolici, diciamo della tradizione di considerare la vita che comincia fin dall'inizio, fin dal concepimento. E in questo scontro ideologico tremendo non c'era una via d'uscita, non si trovava il modo di dare una risposta a questo che però era un problema sociale, umano, urgentissimo. Allora noi abbiamo pensato che si dovesse cambiare pensiero, cambiare l'approccio a questo dramma, perché la politica questo deve fare. La politica non deve risolvere questioni di principio, come adesso per esempio la questione di principio è se ci deve essere o no il movimento per la vita dentro i consultori per difendere la vita dall'inizio. Questo è sbagliato. Allora noi abbiamo pensato che il discorso fosse un altro e il discorso era ma chi è che si può mettere in mezzo nel rapporto tra la madre e il bambino? Nei nove mesi che sono assegnati alla gravidanza per volontà della natura, noi diciamo per volontà divina, c'è un rapporto indissolubile tra il corpo della madre, questo corpo in formazione del figlio. E dentro questa simbiosi, questa unità, nessuno ci si può mettere in mezzo, nessuno può pretendere di decidere per l'una o per l'altra. Non ci si può mettere in mezzo né un medico, né un prete, né un questorino, né un giudice, né un collegio di medici che decidono al posto della donna chi è che deve sopravvivere. Allora noi abbiamo detto c'è questo rapporto antropologico strettissimo, di natura, questo mistero dell'essere che non va violato, che la società deve riconoscere, deve tutelare. Allora il problema non è di decidere dall'esterno che sorte deve avere questo nascituro, ma il problema è di costituire le condizioni di libertà e di dignità della donna per la quale la donna possa essere veramente libera di decidere. Così come sta scritto nella Costituzione, cioè che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che ha di fatto, anche sul piano economico e sociale, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Allora il pieno sviluppo della persona umana, nel caso di una donna che è in difficoltà, che non può partorire, che non può avere un figlio, perché poi sa che non ci saranno gli assigli, che non ci sarà l'assistenza medica, che non ci saranno gli assegni di natalità, che non ci sarà un lavoro da poter mandare avanti, se non c'è un padre che l'assiste, come fa questa donna a decidere responsabilmente di mettere a luce un figlio? E allora per mettere invece la donna in condizioni di decidere, noi abbiamo detto facciamo una legge in cui diciamo che c'è una tutela sociale della maternità, prima ancora di arrivare alla decisione dell'interruzione della gravidanza. E se poi dopo un momento in cui la donna può decidere liberamente perché è aiutata dai servizi, dalle strutture sociali, dallo Stato, dalla comunità intera, che diventa un problema suo, non solo della donna, di mettere al mondo un nuovo uomo, una nuova donna, una nuova persona. E' un dono che si fa alla società intera e allora la società intera se ne deve fare carico e deve essere lei ad aiutare la donna a decidere liberamente, senza imposizioni dall'esterno, coattive, coercitive, che sono naturalmente più soavi di un carcere, ma sono sempre coercitive e coercitive. E quindi noi abbiamo fatto questa legge, i primi due articoli se vengono ben letti dicono proprio questo, lo Stato si fa carico di dare alla donna le condizioni di libertà per decidere e poi abbiamo anche stabilito un periodo in cui i servizi sociali avessero il tempo di trovare le soluzioni ai problemi posti della donna. Questa è la legge sull'aborto, quindi non è ideologica. Adesso rifarmi di nuovo una questione ideologica vuol dire che i consultori, che dovrebbero essere delle strutture di aiuto e di servizio, diventano delle arene di un agone ideologico, di uno scontro tra i fattori della vita e i cosiddetti contrari alla vita. E diventa uno scontro il cui trofeo, la vittoria, è o la donna e il bambino oppure i promotori di questo principio assoluto della vita che non si può decidere. E quindi dobbiamo ripensare a questo, la legge 194 non deve essere manomessa, ha superato tutti gli ostacoli, i referendum, i controlli di costituzionalità, perfino la Chiesa russa ha detto che voleva prenderlo come modello per la legislazione anti-abortista dell'Unione Sovietica. Quindi è una legge che ha dato buona prova, non ci mettete le mani, non la guastate per favore. Ma lei come si spiega questa presa di posizione da parte del governo, da parte della destra, che effettivamente vuole a questo punto mettere le mani su questa legge e fare in modo che invece l'immagine della donna, la visione della donna sia messa a repentaglio in questo modo? No, appunto, è un modo per introdurre su una qualsiasi questione uno scontro di potere. Chi vince vince e soprafà e crea una sua superiorità sul perdente, sullo sconfitto. E questo non è il modo di risolvere i problemi. La politica non serve a risolvere i problemi, ma neanche il problema del potere. La politica serve a risolvere i problemi della gente, i problemi reali, i problemi della vita, le speranze, il futuro, la pace, la dignità, la salvezza della terra. Questo deve fare la politica, non deve decidere se comanda la Meloni o la Schlein. Questo è secondario. Quello che conta è che il potere che è costituito si metta al servizio veramente del popolo, al servizio della società, al servizio della pace, dei cuori e anche dei corpi, anche delle strutture sociali e anche del modo di vivere associato. Questo deve fare la politica. Se non fa questo, allora è chiaro che i cittadini poi si disinteressano, si disaffezionano, non vanno neanche a votare. Perché se quale sia il voto il risultato è sempre lo stesso, allora tanto vale non votare. Invece per votare bisogna dire che se voi votate cambiano le cose, si migliorano le cose, migliora la vita, si garantisce la vita per tutti, per le madri, per i bambini, per i mariti, per i fidanzati, per i figli, per i nipoti, per tutti.